Ora che abbiamo il nostro bel progettino configurato, possiamo andare avanti e entrare a un pochino di topic avanzati. Quello di cui parleremo ora saranno proprio le classi. Andiamo a chiudere questi file che oggettivamente ci servono a poco, il file index.html possiamo tenerlo aperto, cambia poco. E andiamo ora a sviluppare quelli che scoguarda, facciamo che lo lascio esattamente così e noi andiamo a compilare nuovi file. Il file index.html non sarà in grado di fare una reproduction di tutto quello che metteremo, ma tanto a noi non è che serva più di tanto in questo momento vedere cosa succede, visto che non stiamo lavorando con il DOM, ma stiamo andando a vedere degli argomenti come le classi. Quindi andiamo a crearci il nostro file classes.js. Andiamo in questo punto, automaticamente siamo ancora in watch mode e lui va a creare quello che effettivamente è il nostro file classes.js. Indovinate che classe andremo a creare? Andremo a creare la nostra class di user. User, quindi user andremo a dichiarare che avrà al suo interno, come sempre, non fidatevi del mio linter in questo momento, cioè veramente fidatevi del mio linter, ma non è quello che andremo a fare in questo momento. Andiamo a vedere come si dichiarano effettivamente le cose. Andiamo a dire name, che vogliamo che sia una stringa, seguito dal fatto che vogliamo che email sia a sua volta una stringa. Anche andando avanti, avendo questa scrittura, ci rendiamo conto che ci viene mostrato un errore. Perché? Perché ci dice che nonostante il costruttore comunque sia corretto e andrà ad accettare quello che è name e email, per andare a generare una nuova istanza di una classe, ci viene segnalato però che user effettivamente non ha quello che è una proprietà name in se stessa. Appunto user non prevede di avere un nome e una mail. Qual è la soluzione? Una soluzione molto semplice è quella di andare a definire appunto email come una stringa e name appunto come una stringa. A questo punto la nostra classe è pronta, se io andassi appunto a creare quello che è const user, creiamo un nuovo user mail, avremo mchiocciola, non è adesso, facciamo mchiocciola, m.it, andiamo a chiudere il nostro costruttore e ora la nostra istanza di user è effettivamente attiva e funzionante. Anche all'interno delle dichiarazioni delle classi possiamo proprio andare a definire i singoli elementi secondo quella definizione di appunto ridolli che ci siamo dati anche nei types dell'interface e abbiamo altre due parole chiave. Una è public. Public è una parola chiave che va a definire che questo elemento è pubblico, ovvero accessibile dall'esterno. Ci si può accedere. Di default quando noi andiamo a dichiarare un elemento all'interno proprio della nostra classe, di default viene marcato come public. Quindi se io non marco un elemento come in questo caso name, lui di default comunque sarà public. Quindi accessibile console.log.user.email e facciamo anche di name. Saranno entrambe accessibili dall'esterno perché saranno di default public. Volendo, anche qualora appunto andassi a dichiararlo appunto ridolli, li ho messi al contrario, quindi è public ridolli. C'è un ordine che ci viene segnalato. Anche in questo caso lui comunque sarà accessibile. Non sarà possibile andarlo a modificare mentre name invece sarà possibile andare a modificarlo e dire che sarà giondo. Non avremo nessun errore in questo caso, mentre per mail non sarà possibile andare a dire che sarà uguale ad esempio a vuoto perché è marcato come ridolli. Ricordo sempre per l'ennesima, millesima, centomillesima volta che se poi una volta io invece che vado all'interno del mio file, c'è yes, invece viene modificato e in realtà se ne fotte. È solo un avviso che non si può fare, ma in realtà poi javascript lo fa lo stesso. L'altra parola chiave che noi abbiamo, di cui dobbiamo tenere conto, è private. Private va a marcare un elemento come neanche accessibile all'esterno della classe, quindi non posso neanche andare ad esempio console.logare. È un elemento privato che va utilizzato solo e unicamente all'interno della nostra classe, quindi poi lo possiamo utilizzare solo per andare a fare operazioni, ma all'interno della classe dall'esterno appunto non è accessibile. Quello che si vede spesso, diciamo, da quelli che sono definiti i pro, a parte scherzi a parte, un modo molto utilizzato è andare a definire gli elementi all'interno di un costruttore per evitare appunto di disname, disemail, questa serie di scritture, è quello di andare a definire nel costruttore come essi siano. Quindi avremo public name e private, ad esempio, email. In questo caso email non è accessibile, possiamo andare a cancellarlo in questo modo, perché non possiamo accedervi. Se andiamo a vedere come viene compilato il codice in JavaScript, ecco che va a riprodurre esattamente la stessa scrittura di prima. Quindi questa scorciatoia viene spesso, diciamo, dichiarata magari in questo modo, in modo che sia un pochino più palese il fatto di avere questo tipo di scrittura. Si può vedere spesso organizzato in questo modo, in modo che sia un pochino più visibile, effettivamente, che uno va a inizializzare queste variabili come se fossero this e quant'altro. Però anche scriverle in questo modo è abbastanza esplicito per chi conosce proprio TypeScript. Ovviamente può esserci un mischione, quindi io posso avere private, ad esempio, siti che sia una stringa. Cosa molto importante, quando vado a fare una decittura di questo tipo e non è evidenziata nel costruttore, io devo o passargli un valore di default, come in questo caso, allora lui sarà contento e non piangerà, nel caso invece non passassi un valore di default, io devo andare a dire che siti è di tipo stringa e andare a valorizzarlo all'interno, magari poi è opzionale, posso andare a utilizzarlo in questa maniera. O comunque deve essere, comunque la regola è che deve essere valorizzato all'interno poi del costruttore quando vado a dichiarare questo tipo di variabile all'interno di una classe che andrà a generare un'istanza. Quindi ricapitolando in maniera molto molto veloce, il modo più comune di andare a dichiarare quelli che sono, utilizzando TypeScript, delle classi, gli elementi all'interno della classe, la verità di una classe è andare a dichiarare all'interno del costruttore, ma banalmente non perché sia meglio o migliore, ma perché poi riproduce lo stesso tipo di scrittura e quindi è più breve da scrivere rispetto a che poi ripetere this e quant'altro andare a dichiarare la tipologia qua sopra. In altra attiva possiamo andare a dichiarare prima di andare a definire il costruttore la tipologia di elemento che accetterà il nostro costruttore, deve essere poi valorizzato all'interno del costruttore se la vado a dichiarare prima di esso e poi ho delle parole chiave che mi servono per andare a marcare appunto la tipologia di valore che assumerà poi la variabile di un'istanza, comunque un valore stesso della classe, che sono public, che è la parola chiave che rappresenta un oggetto accessibile dall'esterno della classe, che appunto è pubblico e può anche essere modificato, comunque vi si può in generale accedere. Dopodiché abbiamo private che va a definire quella che è una variabile che è accessibile e utilizzabile solo all'interno della classe stessa, non è utilizzabile dall'esterno della nostra classe, questo sempre unicamente secondo quello che è TypeScript. una cosa molto stupida e importante, stupida, no, una cosa che magari qualche volta capiterà di vedere è che questa scrittura in poche parole è l'equivalente di andare a scrivere in JavaScript, in JavaScript, questo asterisco. Questo asterisco significa che la variabile è private in JavaScript, e questo è l'indicazione che si utilizzava per dire che è una variabile di tipo private. Vediamo se sono matto o è ancora tutto vero. Ok, siti appunto non è accessibile. Ah, appunto, ok, siti è appunto un private. Questo tipo di scrittura vuol dire private, come potete immaginare non è così dichiarativo scrivere in questa maniera e dichiararla come private, quindi si preferisce sempre utilizzare quella che è la scrittura di private rispetto all'utilizzo di un asterisco, perché quello non è TypeScript ma è il modo di dire che sono private in JavaScript, in pure JavaScript. Voilà.